In questo caso bisogna fare due distingui. Per quanto riguarda l'odrati slovensco, in questi ultimi 4 anni abbiamo avuto un'evoluzione esponenziale, come dicevo prima, e adesso abbiamo avuto solamente un leggero rallentamento. Cosa significa? Significa che io comunque stiamo lavorando come odrati slovesco, non abbiamo subito dei grossi cali, abbiamo dei rallentamenti che sono legati al momento. Per quanto riguarda invece l'odrati Italia, posso dire che nonostante la situazione che c'è adesso in Italia, il gruppo Odrati è ancora uno dei pochi gruppi che nella zona di Bergamo, dove siamo collocati, ha permesso, comunque ha mantenuto il lavoro per tutte le persone presenti e comunque sia sta lavorando. La risposta si è da ricercare un po' nello stile strategico dell'azienda e in particolare dato sia dal signor Odrati che dalla famiglia Odrati in generale. Abbiamo sempre fatto investimenti mirati, non ci siamo mai persi in attività particolari senza che ci sia dietro qualcosa di concreto. Aver seguito il cliente nel modo migliore, cercando di soddisfarlo nelle sue scelte, nelle sue richieste e anche il fatto di essere aggressivi, fra virgolette, sul mercato ci ha permesso di avere maggiori ordini e maggiore sharing e questo in questo momento di crisi è secondo me l'arma vincente. Pochi costi, pochi scialacqui e diciamo un'attenzione al cliente molto importante.